Le interviste di OK News 24 Azienda Agricola Buonamici qualche giorno fa si è svolto un evento denominato 5 gocce 5 gocce che potrebbero rappresentare la natura, il turismo, l'innovazione, la qualità e il quinto elemento quale potrebbe essere? Com'è che possiamo vivere questa azienda immersa in un territorio da favola? Il quinto elemento è senz'altro racchiuso in una parola magica che è olioturismo questa parola adesso la possiamo non solo spendere ma possiamo metterla in pratica possiamo attivarla possiamo fare in modo che le persone che si avvicinano al mondo dell'olio possano vivere un'esperienza come è successo per il vino l'enoturismo, docet l'enoturismo è stato un grande successo e così sarà anche per l'olio l'olio ha una dignità pari al vino e quindi fa sì che chi si avvicina a questo mondo possa vivere delle emozioni, delle esperienze che sono quelle di conoscere le piante conoscere le varietà, il metodo di coltivazione, fare passeggiate all'interno di olivi fare merende all'interno di olivi, colazioni, un percorso sensoriale che poi si sposta all'interno del frantoio dove si fa l'olio quindi si spiegano le varie procedure per far l'olio si spiega come viene trattata l'oliva, il frutto in modo gentile nel nostro caso essendo un frantoio ipogeo tutto questo avviene sfruttando i dislivelli naturali della collina e quindi fa sì che l'oliva si trasporti all'interno delle macchine quasi per gravità quindi senza traumi, senza colpi, senza nessun tipo di ammaccatura questo tutto a vantaggio della qualità poi si va all'interno della parte dell'imbottigliamento dove si fa vedere come si fa a preservare all'interno dello stoccaggio la conservazione è un altro elemento importantissimo della qualità perché l'olio non ci dimentichiamo ha una tendenza molto rapida a deteriorarsi questo deriva dalla sua natura quindi non solo ci vogliono sistemi contenitori in acciaio ci vogliono temperature controllate non oltre 15-16 gradi e soprattutto battenti di azoto questo fa sì che alla fine viene spiegato come si fa un prodotto e alla fine si degusta si degusta provandolo in abbinamento a dei cibi semplici le interviste di OK News 24 4 4 5 6 7 8 8 9 8 9 12 Grazie a tutti.